salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo ci troviamo ad argenio in provincia di como o meglio sul lago di como nella sponda occidentale diciamo quella che piace agli attori americani qui si trova la villa di george clunay e di altri attori americani questo piccolo borgo che è argenio veramente spettacolare piccolissimo 600 qualcosa abitanti su questa sponda del lago di como che è veramente bellissima quindi adesso facciamo un tour di argenio ma non finisce lì perché dopo vi porto sempre con l'autelivo perché oggi mi tocca volare con l'autelivo ragazzi perché ho portato paro tanaffi a psanzino ma guardate che evento c'è che condizioni di volo ci sono in questo momento quindi l'unico drone in grado di volare con queste condizioni è solo l'autelivo quindi tour e passeggiato di argenio poi con autelivo vogliamo sopra ad argenio ma soprattutto sopra all'isola comacina che è qua vicinissima ad argenio ed è un'isola spettacolare in mezzo al lago di como dove addirittura c'è una chiesa sopra a quest'isola e ci sono addirittura dei resti romani quindi adesso ragazzi passeggiata mangiamo qualcosa troviamo la location e decogliamo con l'autelivo ciao ciao E' un vicolo eh, dentro, vicolo della posta, dentro. Andiamo Sara, vieni, dai, è un vicolo, vicolo della posta, c'è scritto, troppo strano, hai mai visto un vicolo così, tu Sara? Andiamo Sara, vieni, dai, è un vicolo. 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 Andiamo Sara, vieni. Andiamo Sara, vieni. Andiamo Sara, vieni. Andiamo. Vieni. Andiamo Sara, vieni. Andiamo Sara, vieni. Andiamo Sara, vieni. Andiamo Sara, vieni, dai, è un vicolo. Andiamo Sara, vieni, dai, è un vicolo. Andiamo. Andiamo. volo è finito come vi ho detto all'inizio ho dovuto usare per forza l'autelivo perché le condizioni meteo erano un pochino avverse avete visto dall'applicazione che le condizioni erano veramente critiche ma questo drone vola in qualsiasi condizione ragazzi veramente veramente top quindi gli altri due droni voleranno un altro giorno avete visto che fantastica location che è questo lago di como che fantastica location è l'isola comacina quindi ragazzi se questo tour con questa vista dall'alto di argenio e direttore comacina vi è piaciuto lasciato un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va e ci vediamo ovviamente ragazzi nei prossimi video voglio test su questo canale ciao